Ma dove vuole andare? Ci si fa male. Allenamento con il sacco? Eccolo là, ha vinto il sacco. Rivediamo queste immagini che fanno male. Fanno male a lui, a noi ci fanno ridere. Attenzione, dietro la porta, ha visto? È andata giù, sembrava fallo. Rivediamolo al VAR. No, involontario, involontario. Esercizi col bilanciero. Forza. Bello, eh? Su. Un po' di invidia, giù. Su. Eccolo là. Ha sfondato la sedia. Va bene, non ci dia peso. Amilcar, ma si è ancora al dito, eh? Sì. E va bene, chi sei un aschi, ma c'hai proprio nostalgia del ghiaccio, eh? Ma qua, ma ci vede? Ma come l'hai capito? Dai, apri sto frigo. Eh, eh. Cucù. Eh, eh. È bellissimo. Ma viene da grattare tutto. È che godoria. E' una soddisfazione come pochi. E adesso ci faccio pure la punta. Che grattare meglio, mi viene. E che bello. Sempre più bello. E che godoria. E però io non vedo cadere i piccioli. E sì, perché gli amici miei mi hanno detto. Questo è un gratta e vinci. Ma io non ho vinto niente. Sono sfortunato. Non c'è niente da fare. Però grattare gratti. Tutti sulla neve. Ehi, dove vai? Fermatelo! L'atleta di peso. Infatti ha rotto tutta la stagionata. Slittino a due. Ah no, tre. C'era anche l'alberello. Gara tra motoslitte. Pronti? Partenza! Via! Eh, ma è già caduto. Rivediamo l'accaduto. Evoluzione in snowboard. A questo show non ci sono posti a sedere. Che ridere! Che ridere! Oh, qui...